Il grado di E-Sports, in diretta come sempre, con i ceri meteo ideali, non ci sono nuvole. Un saluto a tutti gli spettatori, chiaramente io non sono solo, con me come sempre c'è l'Elia Dani. Nuovo appuntamento con le finali Champions. Aumenta gli decibel sulle tribune, si fanno sentire i tifosi, sarà fondamentale il loro apporto oggi. Ciao Pierre, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio e speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Ha evitato guai mettendo il pallone in out, calcio d'angolo dunque. La gioca vicino, Martial. Palla buona per Gabriel Jesus, 1-0, l'hanno sbloccata da subito. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ferma l'avversario, palla in pallo laterale. Ecco Sadio Mané. Pallone in portata per Bruno Fernandes. Super cicio Donnarumma qui. C'è il tocco corto. Palla nuovamente in calcio d'angolo. La mette dentro De Bruyne. Azione che sfuma. Attenzione a De Bruyne. Diop. Bruno Fernandes. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Fred. Gabriel Jesus. Avanza, palla al piede. Non bene qui il possesso palla. Fred. Giro palla quasi ipnotico. Non vogliono buttarla via. E alla fine perdono palla. Kanté. Van Vissaka. Fred. Gabriel Jesus. Guadagnametri. Interessante la verticalizzazione qui. Con il corpo l'ha tolta dalla porta. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Match che riprende. Hanno allungato portandosi sul 2 a 0. Riconquista il pallone. Avanzano a caccia del momento giusto. Respinta sicura del portiere. E il pallone va dentro. Nonostante la prima grande risposta del portiere. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Hanno spezzato bene la trama qui. Contrasto pulito. Pallone in out. Kanté. Riconquista palla con il tackle. C'è spazio per la ripartenza. Nabil Fekir. Occasione per il contropiede. Possono far male. Palla che esce di nulla qui. È una ripartenza quasi perfetta. È mancato solo l'acuto finale. Perde il controllo della sfera. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. La posizione è ottima. Vediamo. Salva un gol fatto. Buon bisacca. Recupera bene qui De Bruyne. Bruno Fernandes. Occhio a Benzema. Riconquista palla con un intervento giudicato e regolare. Fred. Buon bisacca. Pallone che è uscito. Sarà a faro laterale. Errore banale questo. Palla che finisce in out. A spazio lungo l'out. Sadio Manet. Occhio a Manet. Occasione. L'arbitro dice che il pallone è uscito. Ci sarà rimessa. Fred. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lancio. Non interrompe l'azione. L'arbitro per il vantaggio. Bruno Fernandes. Pallone importante per Bruno Fernandes. Deviazione determinante. Era il posto giusto al momento giusto. Recupera il pallone bene De Bruyne. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Gran palla qui per il compagno. Troppo molle qui il difensore. Manet. Savio Manet trova il gol. Era un'occasione troppo grande per lasciarsi da sfuggire. Quarto gol della gara. Pissa sul 3 a 1 il punteggio. Cante. Errore di Cante qui. Tenta la verticalizzazione. Buona idea. Ottima lettura difensiva in questa situazione. Un minuto di extra time. Bruno Fernandes. Ecco Ternandes. Occhio a Rashford. Si libera del proprio marcatore. Intervento rubido ma corretto. Arbitro che manda le squadre negli sfogliatori. 3 a 1 dunque alla fine dei primi 45. Grazie. 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 Comincia la seconda frazione di gara. Occhio all'attacco dell'afferzario. Ecco Ternandes. Occhio a Rashford. Hollande. Rashford. Si libera del marcatore. Posizione ideale. Palla interessante. E c'è il gol. Il vantaggio comincia a farsi davvero pesante. Ecco qua la fotografia dell'azione del gol. Ha avuto la forza di sottrarsi alla marcatura avversaria e di concludere imparabilmente a rete. E' un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Buon recupero del pallone. Possono ripartire. Hernandes. A tempo e spazio per crossare. Pallone recuperato. Butta bene nello spazio. Pallo brutto questo. Qui può arrivare il rosso. Fekir. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Benzema. Occhio a Benzema. Miracolo del portiere. La mette dentro De Bruyne. E c'è la rete. I vari ancora consistenti. Ma attenzione. Risultato adesso sul 4-2. Occhio a Benzema. Alla profonda di Mané. Un altro gol. E adesso lo svantaggio è molto ridotto. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. Fanno possesso palla nella propria metà campo. Possono permettersi di rallentare. Intervento troppo ruvido questo. Sarà calcio di punizione. De Bruyne. Insiste nella sua azione. Hernandez. Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. Gabriel Gersush. Palla che rotola via. Karim Benzema. La controlla Rashford. Perdono palla. Sadio Mané. Capisce tutto e traccetta bene il passaggio. Pressing che ha dato i suoi frutti. Nuovo possesso palla. Mané. Eccolo il gol. Ma che rimonta hanno fatto. E queste le immagini del gol. Arrivato al termine di un possesso palla. Prolungato. Da poi messa con una volta dalla media distanza. Chi portiere non ha nemmeno visto partire. Davvero un grande spettacolo. Con molti gol. Una sfida molto aperta. Anche tatticamente. Occhio al contropiede. L'arbitro non interrompe. C'è norma del vantaggio. Va col tocco sotto. Grande risposta su questo tentativo di pallonetto. L'aveva visto fuori dai pali e ha provato a beffarla. Senza esito positivo però. Hollande. Hollande regala il pallone. Chianté. Rashford. Continuano a muovere il pallone senza fretta. Possono passare in vantaggio. Intervento disperato a evitare un gol già fatto. Mané. Mané. Tekir. Prosegue qui nell'avanzata. Bruno Fernandes. Incredibile! Adesso sono avventura avanti. Doppio cambio deciso dall'allenatore. Le due squadre non si stanno risparmiando. E adesso si riparte dal risultato di 5 a 4. Recuperano bene passi. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Una grandissima parata in questo. Buon pallone filtrante. Azione che sfuma. Intercetta il pallone. Rientra per farsi dare palla. Forse l'ultima chance per evitare la sconfitta. Karim Benzema. Tecno d'efficace. C'è il vantaggio. Giusto non interrompere. Kanté. Servito Fekir. La legge bene e intercetta. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Hanno spezzato bene la trama qui. Attenzione a De Bruyne. Liceva De Bruyne. C'è spazio per De Bruyne per spingere. Bruno Fernandes. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. C'è un minuto ancora da giocare. Può salire lungo la fascia. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto e possono chiuderla qui. Possono chiudere il match con questo rigore. Non sbagliano al dischetto. Non c'è più tempo. Vinisce qui la gara con il successo della squadra ospite. Il tecnico può essere soddisfatto per la prova della sua squadra. Una prestazione che va al di là del portaggio finale. Perché hanno comandato il gioco. Non c'è più tempo.